Ciao a tutti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un bel like. Grazie, parliamo del mercato dei calciatori perché nelle ultime 48 ore ci siamo soffermati sull'evoluzione dell'area sport con Cristiano Giuntoli che sta consolidando il suo team portando uomini fidati e si sta per entrare in un'altra era, a tutti gli effetti quella giuntoliana ed è giusto che sia così perché se affidi un progetto quinquennale a un dirigente è giusto che poi lo stesso abbia la possibilità di costruirsi a sua immagine e somiglianza la stessa squadra. Quindi Riccardo Calafiori, ne ho parlato ieri su Juventibus, devo dire che ho trovato grandi conferme nelle ultime settimane circa questo apprezzamento della Juventus nei confronti di questo ragazzo classe 2002 che sta facendo un gran campionato, uno dei punti di forza del Bologna, su di lui ha fatto un lavorone, Tiago Motta, molto più di un centrale. A parte che Calafiori nasce come terzino nei giorni della Roma, poi ha avuto quel grave infortunio, poi si è rilanciato al Basilea, il Bologna ha avuto l'intelligenza di puntare sul suo conto e ora riuscirà a ricavare frutti importanti con la sua cessione perché si vocifera che i bolognari facciano una valutazione attorno ai 30 milioni che sono tanti ma magari possono essere anche discussi eventualmente inserendo in trattative separate alcuni giovani che possano catturare l'interesse del DG Sartori. Si vocifera che il Bologna abbia seguito molto da vicino in quest'annata Facundo Gonzalez che sta giocando tanto alla Sampdoria. Si vocifera che il Bologna abbia seguito molto da vicino Tommaso Barbieri, giocatore di proprietà della Juventus in presito al Pisa e si sta comportando anche lui molto bene. Insomma, credo che eventualmente se la Juventus dovesse intensificare i contatti sull'asse Torino-Bologna si potrebbe trovare una sorta di compromesso nonostante il Bologna, specialmente con Sartori, sia destinata a diventare bottega carissima anche perché è una squadra che vede da vicino davvero la Champions League. Ora, secondo me dobbiamo andare anche oltre. Sì, ok, Calafiori piace moltissimo la Juventus, ma perché? Qual è il ragionamento? Da quello che ho intuito, la Juve ritiene che sia prioritario prendere un calciatore per il pacchetto centrali Mancino. Evidentemente hanno osservato minuziosamente i contributi proposti dai vari centrali in questa stagione. Ad ampio raggio ritengono che uno Mancino, uno con le caratteristiche di Calafiori, potrebbe fare al caso di Bianconeri e soprattutto potrebbe anche garantire magari longevità perché credo che Calafiori compirà 22 anni a maggio. Ciò cosa significa? Che ha prospettiva, margini di miglioramento, che ha una bella stagione in seriale spalle questa che certifica come il ragazzo abbia grossissime potenzialità e poi chi ha visto giocare un po' il Bologna sa perfettamente come Calafiori non sia solamente un centrale, bensì è una fonte di gioco perché ha questa licenza di spaccare le linee, molte volte te lo ritrovi dalla sua area, quella avversaria. Io ho sempre in testa il gol che segna il Bologna nei minuti di recupero nella trasferta di Empoli. Partita complicata, il Bologna spreca tantissime occasioni della ripresa, una clamorosa con Rossolini. A un certo punto, al novantatresimo, Calafiori decide di fare questa cavalcata, conclusione, respinta e poi credo che da lì nasca il gol di Fabian che regala agli uomini di Tagobot a tre punti importantissimi. Cioè qua significa che Calafiori, oltre ad avere grandissima fiducia in questo momento nei suoi mezzi e nella coralità, è un calciatore che ha caratteristiche moderne perché stiamo vedendo che tante squadre utilizzano i centrali per avere una fonte in più, per avere più passo, per avere più geometrie e per cercare magari anche attraverso quelli che hanno i più di buoni di trovare verticalizzazioni interessanti. Ecco, mi sembra che Calafiori in questa sua parabola ascendente sia diventando davvero un centrale da calcio non moderno, modernissimo. Quindi probabilmente la Juve si è fatta intrigare da queste caratteristiche, da queste prospettive e dalla possibilità seria di sferrare un'offensiva decisa e chissà magari anche decisiva. Quindi dobbiamo fare attenzione a questa pista assolutissimamente. La Juve con i suoi scout ha visto tutte le partite probabilmente di Calafiori in questa stagione perché tutti monitorano tutto e non solamente in Italia e credo che questo ragazzo abbia superato tante prove, tanti test e sia pronto entrare nel giro dei grandi nomi per quanto riguarda la sessione di mercato estiva 2024. So già che l'equazione può essere Calafiori e Pitagomotta uguale, è già scritto, è già fatto, no? Tutto il futuro immediato della Juventus. Potrebbe anche starci, chi lo sa, sicuramente se poi la Juventus dovesse prendere Tiagomotta e al tempo stesso arrivasse Calafiori ci sarebbe già da parte del tecnico profonda conoscenza della materia e anche meno meccanismi a dover sviluppare a livello difensivo perché avresti già un calciatore che sa perfettamente quale sia il tuo pensiero. Ci può stare, non lo escludo nella maniera più assoluta, anzi se poi entrambe le cose dovessero andare in porto sarebbe anche un accostamento molto logico e sottolineerebbe come ci sia un disegno a tutto tondo per fare in modo che determinati concetti possano essere assimilati il prima possibile per rendere in una determinata maniera in termini corali. Questo lo vedremo, bisogna anche un po' smarcarci dal tema panchina, ma non perché io non voglio affrontare l'argomento, sono due mesi che vi dico che a mio modo di vedere la Juventus cambierà guida tecnica, quando ancora la Juve era in lotta con l'Inter, figuriamoci ora quale possa essere il mio pensiero, ma credo anche che stare qui ogni giorno a parlare del futuro di Allegri e del futuro di Allegri, sì a me porta visualizzazioni e like, però direi sempre le solite cose e alla fine della fiera quali sono le due certezze che possiamo avere in questa fase? Che A, la Juve non ha mai preso inserimento in considerazione dell'ipotesi di allontanare Allegri a stagione in corso, quantomeno per il momento poi vediamo cosa succede con la Fiorentina e B, che cambiamento, e cambiamento sarà, non lo dovi vedere, al termine della stagione, quando è anche giusto effettuarlo. Poi sono d'accordo con coloro che dicono una rondina non fa primavera, non è che ha battuto la Lazio e si è fuori da questo periodaccio, io sono il primo a saperlo nella maniera più assoluta, ma voglio vedere come tutti voi la partita di domenica per capire se la Juventus stia dando cenni di risveglio per cercare di chiudere dignitosamente questa stagione, perché gli ultimi due mesi non sono stati minimamente dignitosi né per il blasone né per la tradizione di questa gloriosissima società. Voglio sapere il vostro punto di vista su Calafiori, che è offerta fareste, no, se foste in Cristiano Giuntoli, quanto valutate questo ragazzo, però mi ha impressionato, in quest'annata mi ha impressionato, è vero che i giocatori un po' di Tiago Motta sono come quelli del Gaspa l'Atalanta, fuori dal contesto bisognerebbe verificarli bene, per cui quando leggo di Ferguson, di Poch, di Calafiori, sono un po' sull'attenti perché mi sembra che in questa stagione il Bologna abbia davvero overperformato e si esaltando tutti e tutti da chi l'ha creata, questa squadra, Sartori, a chi la sta conducendo in maniera magistrale, il grande Tiago Motta, i calciatori che sono davvero meravigliosi perché i buoni ai Champions alzi la mano che avrebbe mai pensato che avessero qualche flebile speranza di arrivare magari in Europa League, figuriamoci in Champions, però intanto la Juve c'è, la Juve vige, la Juve prende informazioni, la Juve vuole un centrale mancino a giugno, è chiaro che bisogna anche capire cosa succede con gli attuali giocatori di proprietà, sappiamo che Gleison Bremer è un giocatore monitorato da tante top società, è un giocatore che ha la clausola a partire del 30 giugno 2025, ma pare ci sia già un patto che per quest'estate se dovesse arrivare un'offerta che si avvicina la clausola le parti deciderebbero di esaminarla assieme, ci sono sempre queste voci che rimbalzano su possibili interessamenti per Dinhausen, che il mancino non è, ma il mancino lo so usare molto bene, ora rimaniamo sul pezzo, rimaniamo su Calafiori e non facciamo congettura, cioè non sto dicendo Calafiori sarà sostituto di Bremer, attenzione, però vi dico, la Juventus vuole un centrale mancino e Calafiori è tra i profili che piace di più.